ciao a tutti oggi prepareremo il sorbetta all'anguria il tempo di preparazione della ricetta è di circa due minuti gli ingredienti sono succo di anguria congelata zucchero limone e foglioline di menta per decorare i quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it diamo il via alla ricetta iniziamo a mettere nel boccale lo zucchero e lo polverizziamo per 10 secondi a velocità 10 teniamo sul fondo lo zucchero aggiungiamo il succo di limone e l'anguria congelata vi consigliamo di uscirlo un paio di minuti prima di iniziare la ricetta andiamo ad amalgamare il tutto per un minuto a velocità 5 spadolando andiamo a verificare la consistenza del nostro sorbetto il nostro sorbetto è pronto andiamolo a mettere nei bicchieri sorbetta all'anguria grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti